Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Ho grandissima stima di Alessandro Barbero, lo storico sabaudo molto mediatico che ha il grande merito di divulgare in forma accessibile a tutti i grandi temi della storia. E tuttavia per una volta mi trovo in disaccordo con lui e dunque gli muovo una pacata critica, che è una critica dialogica, una critica non distruttiva ma semmai propiziatoria spero di un dialogo. Barbero ha detto che in Italia si continuano a insegnare insieme storie e filosofia da parte dello stesso docente ma in realtà sono molto diverse. Ora che storie e filosofia siano diverse è perfettamente vero ed è nel vero Barbero quando lo sottolinea e tuttavia mi permetto di contestare l'affermazione di Barbero da che sono convinto che storie e filosofia debbano continuare a essere insegnate congiuntamente dallo stesso docente. Direi anzi che questa è una preziosissima eredità dell'eghelismo che in Italia è subentrata grazie all'operato di Giovanni Gentile della sua riforma. Come noto Giovanni Gentile era un egheliano che ha riformato non solo la scuola nel 23 con la sua riforma della scuola ma che ha riformato anche la dialettica dello Hegel. La riforma della dialettica egheliana è uno dei più noti testi di Giovanni Gentile. Ebbene è proprio grazie a Hegel che abbiamo contezza del fatto che la filosofia è storia, si declina storicamente come successione delle filosofie, dei sistemi filosofici e al tempo stesso la storia è storia pensata e quindi è storia filosofica. Indi per cui una storia senza filosofia è priva di contenuto riflessivo proprio come una filosofia senza storia è del tutto impossibilitata a comprendere se stessa. Mi permetto dunque di dissentire da Barbero e di rivendicare l'importanza di tenere congiunte la storia e la filosofia come per ora ancora è in Italia. Grazie a tutti.